A volte succede che la notte porti consiglio e così è caduto a Bruxelles. Poco dopo la mezzanotte, dopo giorni di sfiancanti trattative, i ministri delle finanze europee, Germania compresa, hanno raggiunto un accordo sul meccanismo di salvataggio delle banche, necessario tra l'altro per concludere nei prossimi due giorni la tanto ricercata e intesa sull'unione bancaria voluta e caldeggiata da Mario Draghi. In sostanza si è deciso che, visto che siamo tutti sulla stessa barca europea, è giusto e corretto che i rischi vengano condivisi. Per questo è stato istituito un fondo comune per i salvataggi, finanziato dalle banche stesse e completato progressivamente in dieci anni a partire dal 2015, con la possibilità di usare anche un temporaneo salvagente, il cosiddetto backstop, che opererà in parallelo al fondo salvastati ESM, per liquidare, quando necessario, la banca è in difficoltà senza scatenare il tanto temuto effetto domino sugli altri istituti, per evitare insomma che si ripeta un caso Lehman Brothers ancora incubo di tutti gli operatori finanziari. Entusiasta il ministro dell'economia Saccomanni, è un risultato storico, ha commentato, paragonabile a un'altra storica conclusione che era quella dell'unione monetaria. Ma nelle stesse ore è stata presa anche un'altra decisione, forse non storica, ma certamente destinata a impattare sulla finanza e sull'economia mondiale. Dopo cinque anni di iniezione senza condizione di liquidità sul mercato, la banca centrale americana ha deciso di cominciare a ridurre l'aiuto, il cosiddetto stimulus. E così Bernanke ha annunciato che la Fed ridurrà a 40 miliardi di dollari al mese gli acquisti di titoli di Stato contro i 45 miliardi di dollari attuali e a 35 miliardi di dollari quelli di titoli legati ai mutui dai 40 attuali. Il mercato, quello di Wall Street, per ora ha reagito con i nervi saldi. Si vedremo nelle prossime ore le piazze europee, anche perché Bernanke ha comunque rassicurato i mercati. Una politica monetaria molto accomodante resta appropriata, ha detto, e i tassi resteranno bassi fino a che il tasso di disoccupazione non sarà sceso saldamente sotto il 6,5%.